Continuano gli appuntamenti del cartellone ottobre in biblioteca Terra Nuova Bracciolini e il prossimo sarà venerdì 11 alle 21 presso l'auditorium Le Fornaci. Di cosa si parlerà? Sì, continua appunto questo ciclo dedicato ai giovani adulti che la biblioteca quest'anno ha deciso di dedicare in occasione della campagna di promozione della lettura del mese d'ottobre. E venerdì sera sarà la volta di un film, un film molto amato fra l'altro e Scialla che è uscito credo un paio d'anni fa e che però ci permette di ancora una volta puntualizzare la nostra attenzione su questa fascia, questa particolare fascia d'età che è quella dei cosiddetti adolescenti. E intanto è vero che oltre alla visione del film ci sarà una piccola introduzione di Alessio De Santis che è uno psicologo che lavora appunto con i ragazzi e con i giovani e con gli adulti per i giovani e quindi ci fornirà un'interessante chiave di lettura per interpretare il film alla luce di questo argomento. Quindi invito tutti gli interessati oltre alla visione del film anche all'analisi di questo fenomeno, quindi tutti i genitori ma anche tutti gli educatori, tutti gli insegnanti e anche tutti i giovani adulti perché comunque è un film piacevole e divertente e se uno non ha avuto modo di vedere è sempre interessante poterlo vedere. Naturalmente l'appuntamento sarà all'auditorium in questo caso. Il sabato 12 invece è il primo dei due appuntamenti per i più piccoli. Questo qui, questo appuntamento qui 0-3 è proprio dedicato ai piccolissimi, proprio dagli 0 a 3 anni. Addirittura questa volta sono coinvolti anche le mamme col pancione e quindi anche i bambini dentro la pancia avranno modo di sentire la voce narrante, sentire ascoltare le storie perché ormai è una cosa provata che l'ascolto della storia, l'ascolto della voce della mamma ma anche di una narrazione che proviene dall'esterno fa bene, fa bene non solo al cervello ma fa bene alla crescita, fa da un senso di benessere ai bambini. Sarà l'associazione Pandora che da tempo lavora con noi per la promozione della lettura a guidare questo appuntamento e appunto aspettiamo tutti i bambini piccolini piccolini dagli 0 a 3 anni e le mamme con la pancia a venire alla biblioteca dei ragazzi sabato prossimo alle 4 e mezzo e magari possibilmente se potete prenotare alla biblioteca di Fornace al telefono 055 97 38 838. Grazie a tutti.